Da quando si è allontanata da Soleil Sorge, Manila Nazzaro passa moltissimo tempo con Mirjana Trevisan nella casa del GF VIP. Le due sono diventate le vere comari di questa edizione, e non è raro trovarle a spettegolare degli altri concorrenti del reality. Oggi però le showgirl avevano qualcosa di davvero particolare da dirsi, visto che hanno cercato di comunicare in codice. La Trevisan ha chiesto alla Nazzaro di seguirla in camera e una volta aperto l'armadio. Mirjana ha iniziato a fare dei gesti, poi ha anche disegnato, con le dita, delle lettere sull'anta. Questo siparietto però è stato interrotto dall'arrivo di Jessica Selassie, che le ha bacchettate, ragazze. Le vippone girandosi verso la principessa. Si sono accorte di avere anche una telecamera puntata proprio su di loro, e questa è stata l'espressione di Manila. Secondo qualche telespettatore, Mirjana Trevisan avrebbe avvisato la coinquilina dall'uscita imminente di Gianluca, come se potesse sapere qualcosa sul televoto. Ovviamente questa non è la verità. Manila e Mirjana infatti hanno solamente ipotizzato che domani tra Kabir, Antonio e Gianluca, sarà proprio quest'ultimo a lasciare il GF VIP e per questo hanno detto. Questo spazio adesso è occupato dalle cose di Gianluca, ma domani probabilmente si libera tutto. Non ci vuole una sfera di cristallo per capire che al 99% sarà Gianluca Costantino ad aprire la porta rossa. Cosa ne pensate di questa nuova coppia Manila e Mirjana? Cosa ne pensate di questa nuova coppia Manila e Mirjana?